Una spaccatura clamorosa alla vigilia della stagione lirica numero 100, con il sindaco Tommasi messo in minoranza dagli altri soci, compatti nel sostenere la riconferma di Cecilia Gasdì alla guida della Fondazione Arena. L'esito del primo consiglio di indirizzo del nuovo corso, ieri pomeriggio, è un muro contro muro. Da un lato il presidente della Fondazione, cioè lo stesso Tommasi, con i due esponenti nominati dal Comune, Mari-Lisa Allegrini e Stefano Soso, favorevoli ad un bando per individuare il nuovo sovrintendente. Dall'altro i restanti quattro soci, Camera di Commercio, Cattolica Assicurazioni, Regione e Ministero della Cultura, che a dispetto delle attese di alcuni hanno formato un fronte compatto, contrario a quella manifestazione pubblica di interesse. La vera partita in gioco è sul nome del sovrintendente. L'alleanza inedita pubblico-privato vicino al centrodestra tifa per la riconferma di Cecilia Gasdìa, mentre la maggioranza di Palazzo Barbieri, pur riconoscendole la bontà del lavoro fatto, puntava a cambiarla. Il giorno dopo la rottura e lo sfogo di Tommasi, che ha parlato di scelta gravissima degli altri soci, fioccano le reazioni e le riunioni. Gongola il centrodestra con Flavio Tosì, Forza Italia, che parla di approccio superficiale del sindaco, che meglio avrebbe fatto a proporre un nome autorevole, anziché aprire una manifestazione di interesse di soli cinque giorni, riferimento alla scadenza del mandato di Gasdìa, il prossimo 4 marzo. Fratelli d'Italia con Ciro Maschio rimprovera al sindaco di pensare di poter decidere da solo perché ha vinto le elezioni comunali, mentre la Lega con Nicolò Zavarise lo accusa di indecisione in sicurezza, ma si rivolge anche agli altri soci. Chi si contrappone per partito preso sta giocando col fuoco, sono in ballo posti di lavoro e l'immagine di Verona nel mondo. Il movimento traguardi, in maggioranza, parla di stupore e preoccupazione per logiche politiche nelle scelte dei soci allineati alla centrodestra. In subuglio il mondo sindacale, con i lavoratori che da tempo chiedevano un cambio di rotta nei rapporti con l'ex lirico. Ora la strada per evitare una frattura definitiva che condizionerebbe il futuro di fondazione è stretta. Giovedì il consiglio di indirizzo deve esprimersi sul nome del sovrintendente da sottoporre al ministro della cultura San Giuliano e l'alternativa al braccio di ferro, pro o contro Gasdìa, è un'intesa sul nome terzo, quelli che circolano sono Nicola Colabianchi o Mauro Meli con incarichi di direzione del teatro lirico di Cagliari.